Siamo qui con l'avvocato Giovanna Bellizzi, presidente di Mediterraneo Notriv, con la quale vorremmo fare delle osservazioni sull'attività che è stata fatta, non parliamo di bonifica perché probabilmente qui di bonifica c'è poco, ma certamente un'attività di pulizia parziale dei luoghi. Perché parziale? Perché naturalmente nella cunetta che è stata ricavata o ampliata ci sono chiaramente i segni ancora dell'olio esausto. Lei ha avvocato che osservazioni vuole fare in merito a questa situazione? Sicuramente recandoci sul posto cosa constatiamo? Intanto che l'intervento è inefficace così come si rileva e dall'esistenza delle macchie nere, verosimilmente l'olio esausto che l'autocisterna ha preso, ma soprattutto l'esistenza ancora del terreno impregnato della sostanza che è tossica, che è potenzialmente impattante e pericolosa per l'ambiente e di conseguenza per la salute dei cittadini. Quello che mi domando è, l'intervento sicuramente nell'incidente è stato non ottimale perché è tardivo, ma ancora di più oggi dopo come lei ha giustamente osservato, parziale perché il problema ancora esiste. Questa cunetta dove l'olio esausto si è riversato, verosimilmente ha avuto un'incidenza poi e avrà in futuro un'incidenza anche sulle falde acquifere. Qual è il motivo che ci porta a questa considerazione, a questa conclusione? Sono sostanzialmente due. Le cunette sono circondate come si può vedere da terreni, terreni coltivati, esistono falde acquifere, quindi il terreno che ha assorbito la sostanza continuerà a rilasciare nel tempo l'olio esausto e potrà verosimilmente contaminare le falde acquifere. Nelle giornate successive, quando ancora la rimozione del terreno non era stata realizzata, ci sono stati diversi eventi atmosferici, pioggia, tanta pioggia, quindi il terreno e le cunette si sono impregnate di altra acqua e ha contribuito la pioggia a divulgare la propagazione. È dato certo che l'ASM ha inviato al comune di Salandra la sollecitazione a emettere un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di emungimento delle acque. Ad oggi non è dato ancora sapere se il comune di Salandra ha attivato questo divieto di emungimento e soprattutto quali e quanti terreni sono stati interessati dal potenziale impatto. Ebbene, da questa vicenda noi che cosa impariamo? Impariamo una lezione per la Basilicata di assoluta in preparazione. Ancora una volta dimostriamo di essere incapaci, istituzioni prima di tutto, ad affrontare immediatamente il problema e i fatti lo dimostrano perché il problema è ancora qui in essere, ma soprattutto non siamo in grado di prevenirlo. Incidenti come questi non dovevano, non debbano accadere. Il trasporto degli oli esausti è un problema rilevante, così come il trasporto di tutti i rifiuti derivanti dall'estrazione del petrolio, il cui numero e quantità oggi è già rilevante, ma in futuro con l'incremento dell'estrazione diventerà ancora più rilevante e noi avremo queste centinaia e centinaia di autobotti che transitano sull'autostrada e possono provocare questi disastri. Chi pagherà? Chi pagherà per il danno ambientale? Chi pagherà le opere di ripristino? E a 15 giorni da questo incidente è ammissibile lasciare la zona ancora così? È ammissibile sapere che non c'è una coordinazione di tutti gli enti per intervenire immediatamente? È possibile ipotizzare che non esiste un piano dei trasporti regionale? Cioè se io chiedo alla regione basericata il giorno oggi che cos'è? 21? Io come cittadino, io come istituzione dovrei sapere quante di queste autobotti transitano dalle ore 001 da mezzanotte fino al giorno dopo. Io devo sapere quante di queste autobotti circolano perché devo essere in grado, qualora si verifica un evento, che non dovrebbe appunto accadere di intervenire immediatamente. Attenzione, non è un mero incidente stradale perché l'autocisterna trasportava sostanze classificate come pericolose. Sì, sono domande legittime quelle poste alle istituzioni soprattutto dall'avvocato Bellizzi. la domanda appunto finale è questo cantiere, questa sorta di cantiere che qui vediamo peraltro ben segnalato e transennato è appunto provvisorio, dobbiamo ipotizzare e soprattutto sperare di sì perché l'acqua che è nella cunetta è stagnante in questo momento è fortemente contaminata almeno dal punto di vista del colore, ma diciamo, diciamo, esattamente. E quindi come è stato fatto questo intervento? Cioè le domande fatte dall'avvocato Bellizzi sono assolutamente condivisibili, le giriamo alle istituzioni, le giriamo ad ANAS che come sappiamo ha effettuato diciamo queste operazioni sostituendosi alla ditta di autotrasporti che era obbligata per legge, la quale ha fatto sapere che le ditte dalle interessate sostanzialmente non erano pronte, non erano disponibili. Anche questo avvocato riteniamo che sia un fatto abbastanza particolare. In merito infine all'ordinanza che l'ASMA ha chiesto e questo è ufficiale al comune di Salandra, fonti vicine al municipio salandrese ci fanno sapere che è in corso di perfezionamento, ma naturalmente la domanda vera è a due settimane dall'evento questa ordinanza a cosa potrà servire? Perché forse se c'è un danno, noi lo diamo sempre per ipotetico questo danno, forse si è già compiuto e già stato fatto. Sì, e il problema è proprio la tempistica, cioè ipotizzare che la regione Basilicata ancora non ha compreso che queste sono questioni che vanno affrontate con immediatezza, con tempestività. Il problema oggi non doveva esistere e non doveva esistere dopo 24 ore dal sinistro. Una squadra specializzata doveva intervenire immediatamente e invece abbiamo aspettato che piovesse, abbiamo fatto passare i giorni e il problema ancora c'è, per non parlare dello stato della strada con conseguente potenziale pericolo anche per gli utenti. Ma dico anche di più come lei ha sottolineato, dall'incidente fatto carico dell'intervento da parte dell'ANAS, come giusto che sia per la sicurezza e la manutenzione dello strada, per un evento creato da una ditta privata ne paga sempre Pantaleone, cioè le tasche dei cittadini. Detto questo pensiamo di essere stati abbastanza esaustivi, soprattutto a coloro che ci guardano rivolgiamo l'invito attento ad osservare, a guardare le immagini, le immagini della cunetta che ancora oggi, dopo l'intervento, è impregnata di questo liquido. Cari amici di Ionica TV, chiudiamo questo servizio dalla Basentana con queste immagini che avrete sicuramente già visto. All'assessore regionale all'ambiente Francesco Pietrantuono voglio chiedere, i Lucani meritano tutto questo? Perché l'assessore non viene qui a fare un sopralluogo, magari con l'ARPAB che da quanto ci risulta non è ancora intervenuta? E' un modo abbastanza semplice per far vedere di essere vicini ai cittadini, per far vedere che si tutelano i cittadini nella speranza che questi incidenti, come diceva l'Avvocato Bellizzi, non si verifichino più sulle nostre strade.